Guer district vengono chiamati i quartieri periferici di Ulaanbaatar e sono costituiti soprattutto dalle tipiche tende da basse casette di legno. Le Guer, le tende, non hanno l'acqua corrente e servizi igienici e le strade sono di terra. In una di queste Guer abita Bayarà con la moglie e due figli. Sono caduto come un sasso da una scala. Era colpa mia ma dovevo sistemare quel tetto e la scala era corta così ne ho attaccato un'altra. Sono caduto giù come un sasso. Nel 91 finita l'era socialista in Mongolia arrivò l'economia di mercato ed io persi il mio lavoro come tanti altri. Avevo tre figli piccoli da mantenere e così trovai un'occupazione come muratore. Lavoravo in condizioni difficili. Per rimetterti in piedi devi farti operare e l'operazione è piuttosto costosa. Ma non ho soldi e poi dopo ritorno come prima? Con questa operazione ti rimetterai in piedi ma per camminare dovrai usare degli ausili. Che senso ha continuare così? Dottore voglio finirla. Può farmi un'iniezione? I soldi per l'operazione arrivano da una colletta che fanno i suoi ex compagni di scuola. L'operazione riesce e dopo qualche mese Bayerà ritorna nella sua guerre. Non avevo voglia di nulla. Non potevo muovermi. A cosa potevo servire? Un giorno tutti i miei familiari corsero fuori dalla tenda e si misero a urlare. Non riuscivo a capire cosa fosse successo ma volevo saperlo subito. Mi accorsi che potevo muovermi se lo volevo. Uscì dalla tenda e fuori vidì il fuoco. Le colline bruciavano. Era uno spettacolo terribile ma anche bello. Era venuto il momento di fare qualcosa. Dovevo trovare un lavoro. Portare dei soldi a casa. Perché non cominci a disegnare sul feltro? Disegni dei motivi tradizionali mongoli che poi vendiamo al mercato. Nel 2003, ad un anno dall'incidente, cominciai a chiedere in giro dei soldi per iniziare questa attività. Proposi al progetto Iniziativa Gear la mia idea di attività artigianale. Piacque e mi finanziarono. Cominciai a partecipare ai mercati, ai concorsi artistici e cominciai anche a guadagnare e a farmi conoscere. Un giorno sentì parlare di questa organizzazione italiana, AIFO, che finanziava progetti come il mio ma non sapevo come mettermi in contatto. Finché il mio collega O. Jungerer mi disse che aveva trovato il modo per parlare con quelli di AIFO. Andamo da loro, gli proponemmo il nostro progetto di lavoro che venne approvato e finanziato con una cifra consistente. Quando cominciai a frequentare AIFO, mi accorsi però che loro non offrivano solo dei contributi economici. Conobbi Entuia, il coordinatore locale del programma di riabilitazione comunitaria e ricevetti delle nuove cure all'ospedale. Presi parte ad un gruppo di riabilitazione, frequentando tutte le loro iniziative. In occasione della festa per i 15 anni di attività di AIFO, ricevetti anche un premio per le mie opere. Per chi non ha una disabilità come la mia, vivere è più semplice. Per noi tutto è più complicato. Muoversi liberamente in città, trovare un lavoro, avere una vita sociale normale. Eppure io sono fortunato rispetto a tutti quei disabili che vivono da soli questa condizione e che non hanno rapporti solidi con l'esterno, che non sono organizzati. Le persone disabili come me, che partecipano alla riabilitazione su base comunitaria, hanno molte più occasioni per conoscere, informarsi, hanno più opportunità. Dieci anni fa non si vedevano in giro per Ulaanbaatar tante persone con stampelle o carrozzine. Ora i disabili sono più visibili e la loro situazione sta migliorando in città. La gente comincia a sentirci in un modo diverso e non ci evita. Ma perché questo cambiamento di mentalità va davanti, occorre sempre il lavoro di associazioni come AIFO e la partecipazione di noi disabili. Sto costruendo una casetta di mattoni ad un piano qua fuori. Ci saranno due stanze, una per lavorare e una per la mia famiglia. Poi farò anche un secondo piano dove potranno venire ad abitare i miei figli. Nella stanza di lavoro che avrò potrò coinvolgere altre persone disabili, ma anche persone semplicemente svantaggiate come gli alcolisti. Voglio trasmettere le mie competenze agli altri, così anche loro potranno lavorare.